Tutti insieme prendiamoci per mano e ad uno ad uno Poi pensiamo a tutto quello che Gesù fa per me e per te Cosa fa Gesù per noi? Cosa fa Gesù per noi? Cosa fa? Lui ci dona la gioia, la gioia, la gioia Lui ci dona la gioia e gioiosi noi saremo Cosa fa Gesù per noi? Cosa fa Gesù per noi? Cosa fa? Lui ci dona la pace, la pace, la pace Lui ci dona la pace e tranquilli noi saremo Tutti insieme prendiamoci per mano e ad uno ad uno Poi pensiamo a tutto quello che Gesù fa per me e per te Cosa fa Gesù per noi? 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 Cosa fa Gesù per noi Lui ci dona la vita, la vita, la vita Lui ci dona la vita e per Lui noi la vivremo Tutti insieme prendiamoci per mano e ad uno ad uno Poi pensiamo a tutto quello che Gesù fa per me e per te